Gli U2, U2 con One, U2 anche tu, ve lo ricordate che chiamano così perché sono su un volantino che misero nel loro liceo c'era scritto se vuoi cantare anche tu U2 unisciti a noi e quindi U2, U2, vabbè così volevo dirvelo Siamo arrivati alla seconda parte di trasmissione, 8 e 10 di oggi martedì 9 aprile Oggi parliamo, ve l'ho detto prima della pausa, vi ho detto che avremmo parlato di Vasche, di Seveso No, non stiamo parlando stranamente della vasca di Bresso di cui ormai abbiamo parlato tantissime volte ma non è l'unica vasca qua di Bresso, ci sono tante altre tra cui ad esempio quella che dovrebbe nascere a Senago e ne parliamo qui con Giovanni Cortese, buongiorno Giovanni Buongiorno Allora, noi effettivamente siamo sempre un po' troppo milanocentrici noi quindi pensiamo sempre che ci sia solo la vasca di Bresso che poi non è a Bresso che poi è a Milano ma in realtà non è l'unica, ce ne sono altre lungo il corso del Seveso anche diciamo non lungo il corso del Seveso perché qua di Senago in realtà viene fatta modificando questo corso Cosa dovrebbe succedere a Senago? Intanto bisogna dire che le vasche sono allentate sul Seveso Varedo, Paderno, un'unica vasca che ha raggruppato le due vasche previste a Senago sono due vasche e poi a Bresso quella che è stata attivata recentemente poi ci sono anche le aree golenali che dovrebbero assorbire una parte abbastanza contenuta delle esontazioni del torrente insomma Quello che però fa un po' specie sentendo parlare della vasca di Senago è che quando mi sono arrivati i vostri comunicati ho detto ma che cosa c'è da Senago con il Seveso? Senago non è lungo il Seveso Senago dista a 4,5 km dal punto di presa del canale scolmatore di nord-ovest ossia l'acqua prima che arrivi a Senago deve fare 4,5 km di percorso ti va su anche un po' dell'altra acqua ovviamente perché c'è però Senago non c'entra niente oltretutto Senago ha già dato quando ha consentito la realizzazione del canale scolmatore che praticamente passa attraverso il paese Il canale scolmatore che è quel canale che in realtà diciamo è il nonno delle vasche cioè si era pensato di fare un canale che quando quello si alza tac si apre e butta un po' d'acqua dall'altra parte Esatto Non sono un idraulico ma credo che... No no è così ma ne era previsto anche uno di nord-est Ok Che poi non è stato fatto reggente il comune la Moratti Ok Che ha preferito altre scelte insomma Ecco ha parlato di sindaco Moratti quindi Milano perché anche in queste operazioni in realtà il comune di Milano comunque è dentro nel senso che l'idea delle vasche di progettazione appunto è in tutto in capo a Regione Lombardia ma poi a Regione Lombardia con il comune di Milano E sono i due sovvenzionatori economici dell'intervento Regione Lombardia con 10 milioni di euro Comune di Milano con 20 milioni di euro che fanno 30 che sono già lievitati senza ancora aver finito le opere a 36 milioni 250 mila Eh insomma niente male Giacomo e chi li mette quei 6 milioni in più? Ma li trovano Mi è piaciuto Cosa volete che siano 6 milioni in più? E' come quando mi mancano i 20 centesimi a me per il caffè Poi magari se invece c'è da fare qualcosa di utile per i cittadini non tirano fuori i soldi Effettivamente Giovanni, interessante anche questo Allora Giovanni, io direi che adesso abbiamo capito un attimino dove stiamo collocati nel mondo appunto quindi a nord di Milano, in mezzo nella pianura vicino a Padelondugnano, Varedo poi Cesate di vicino a Sedano, Bollate, quella zona lì e ovviamente voi dite no questa vasca così non va bene perché lo scampiamo subito dopo un po' di musica e quindi appena torniamo capiamo perché appunto il Comitato Novasche e Tutile del Territorio di Senago dice no così non va bene Tra parentesi immagino già quali siano un po' di problematiche ma lo lascio dire a lei caro il mio Giovanni andiamo con un po' di musica sto parlando dei Comacose con Post Concerto qui alle 8 e 14 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano Post Concerto i Comacose alle 8 e 17 minuti qui su Crystal Radio allora ci riportiamo a Senago 20.000 abitanti in quella della città metropolitana di Milano a nord della nostra città non proprio lungo il corso del Seveso ma nonostante questo appunto abbiamo sentito interessata dalla costruzione di una vasca di laminazione per il Seveso vasca di laminazione che appunto viene contestata dal Comitato Novasche e Tutile del Territorio Giovanni quali sono appunto le principali motivazioni della vostra o no a queste vasche? Originariamente era partito il discorso del non vedere la costruzione di vasche di questo tipo in un territorio che è corridoio ecologico di regione Lombardia ed è nel parco delle Groali ah perché quel pezzo di territorio è inserito nel parco delle Groani è parco delle Groani a tutti gli effetti quindi è inedificabile per definizione ma il problema principale è dato dalla forte concentrazione nelle acque del Seveso rilevata da ARPA Milano quindi siamo di fronte a un'istituzione ufficiale che rappresenta un pericolo enorme che è stato poi processato da un medico di base di chiara diciamo conoscenza sia per il lungo trascorsi eccetera e da una biologa molecolare che all'inizio fece anche ricerche a San Raffaele per quello che c'è dentro cancerogeni metalli pesanti il solo pensiero di quello che potrà causare nel tempo fa caponare la pelle questo è il discorso che preoccupa i cittadini le acque luride sporche diciamo sporche non diciamo solo sporche a livello estetico ma proprio anche appunto organolettico cioè nel senso che ci sono decendenti un po' di tutto perché ricordiamo che il Seveso si porta giù qualsiasi cosa lungo il suo corso tantissimi sono ritrovati anche degli scarichi abusivi nel Seveso so che Arpa sta facendo un lavoro pazzesco nel monitoraggio nella chiusura anche di questi scarichi e poi comunque tutte le tombinature delle varie città lungo il corso Varedo ad esempio che è vicino a voi Paderno insomma tutte queste città scaricano lì dentro ma neanche volontariamente cioè proprio è la fisica ma certo ma Arpa ha certificato le acque dal punto di vista biologico e dal punto di vista chimico e nelle pubblicazioni di Arpa sono entrambi scadenti quindi non c'è da dubitare sulla situazione del problema il Seveso è un torrente quindi raccoglie tutte quante le porcherie che man mano vengono verso valle e che quindi poi convergono verso Milano e oltre verso il Re dei Fossi in finale c'è il Cesano Maderno e c'è il Serenza che va nel nel Seveso ok più a Monte c'è il Terro che è una cloaca a cielo aperto che va nel nel Seveso poi ci sono tutti quanti gli scarichi industriali bisogna pensare che sono stati censiti 1505 scarichi nel torrente Seveso questo non l'avete fatto voi no 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 sono certificati sono alla procura della Repubblica e su 1505 1400 sono abusivi eccolo male insomma capite che insomma la paura dei cittadini di Senago incomincia a essere abbastanza capibile comprensibile diciamo anche da noi altri che siamo così distanti l'altra cosa particolare di questa vasca è che essendo appunto in una zona poi non si può edificare più di tanto credo sia forse anche quella la motivazione non è come la vasca che conosciamo che c'è a Bresso tutta cementificata è tutta diciamo un calcestruzzo e quindi poi con tutto quello che comporta la possibilità di pulirla questa è un po' diversa giusto? perché come sarebbe? è radicalmente diversa secondo il mio parere c'è un errore di progettazione nel senso che sapendo quali sono le condizioni delle acque metropolitana milanese che ha progettato la vasca di Bresso si è preoccupata principalmente di dare la possibilità comunque di fare un lavaggio cosa che è avvenuta dopo l'ultima utilità parliamo di quella di Bresso di Bresso esatto quella di Senago invece non ha una superficie in terra ok il che vuol dire che tutto il materiale si deposita nella vasca ok ed è previsto che fino a 5 cm di spessore di residui non si fa nulla ok dopo i 5 cm non si portano via perché voglio vedere come fanno a portarle via ma li frantumano ah ok e li portano via quando ha raggiunto lo spessore di 30 cm siamo alla alla follia pura la cosa interessante Giovanni è che tu non sei un ingegnere idraulico ma diciamo che i lavori pubblici ne hai visti nella tua vita sono quasi 50 anni perché facevi questo di mestiere per riferire lo Stato giusto diciamo io gestivo i lavori in tutta la Lombardia edili idraulici riscaldamento binari tutto quello che doveva fare Ferrovia passavano dalle mani e dagli occhi di Giovanni Cortesi diciamo che io ero una buona pedina ottimo ottimo quindi per questo in realtà tu hai queste critiche anche sul discorso della progettazione di come viene gestito la modalità del processo operativo che c'è in questo momento in atto a proposito a che punto siamo adesso cosa sta succedendo gli scavi ci sono non ci sono hanno già a che punto siamo facciamo capire chi ci segue la casa i primi lavori sono stati consegnati nel 2020 è stata fatta una consegna parziale i tempi previsti in contratto e comunicati all'Unione Europea perché era una gara europea quella che è stata fatta davano dei valori che sono poi esposti nel contratto tra le parti quelli che invece stanno utilizzando e comparendo nei cartelloni sono tutt'altra cosa non ci azzeccano proprio niente niente quindi in teoria dopo l'ultima rilevazione che ho fatto i lavori si sarebbero dovuti completare il 18 aprile del 2026 ok ultimamente sono passato hanno calato quasi un anno i giorni cioè i termini utili che sono una cosa importantissima nei contratti pubblici sono una delle tre condizioni irrinunciabili dei contratti sono diventati invece come le esontazioni salgono scendono come cavolo vogliono come i bitcoin diciamo come la borsa e ma infatti quando è che in teoria dovrebbe entrare in esercizio questa vasca facciamo così secondo loro e secondo lei allora secondo le ultime rilevazioni dovrebbe entrare in funzione l'impianto a fine 2025 ok siccome la quantità di terra che è lì e non è stata portata via con un'operazione che è tutta particolare secondo me non faranno in tempo a 2025 adesso modificano i giorni per una questione così di apparenza eccetera ma non è non si gestiscono così i lavori pubblici appunto lo dice Giovanni che appunto dagli anni 60 gestiva i lavori pubblici quindi lo dice con condizioni nel 62 nel 62 insomma con condizioni di causa lo dice allora facciamo una cosa noi adesso ci fermiamo ancora con un po' di musica andiamo anche in pausa con due consigli per gli acquisti veloci e poi torniamo qua ancora a parlare di Senago della Vasca e appunto anche vorrei capire un po' poi in che posizione del paese viene messa che sicuramente sarà lontanissimo dall'abitazione immagino spero assolutamente no appunto c'è un grosso complesso che sarà un centinaio di metri saranno contenti allora quelli che abitano nel complesso e poi c'è un rione vicino bene allora per tutto Giovanni Cortesi del comitato Novasche e tutela del territorio di Senago ne parliamo ancora fra pochi minuti sempre qua in diretta 33178535555 non sono molto di Whatsapp se anche voi avete qualcosa da dire sul Seveso noi siamo qua ad ascoltarlo mi raccomando come sempre attenti a quello che succede sul territorio perché questo è Good Morning Milano questa è la sveglia dei milanesi questo è il vostro programma sempre qui in diretta su Cristian Radio tutte le mattine 96.2 FM Dub Plus applicazione di iOS Android e anche il sito internet goodmorning.milano.it Jennifer Lopez on the floor 8 e 35 minuti martedì 9 aprile ancora qui con voi in nostra e vostra compagnia Good Morning Milano a parlare di Senago e del Seveso la vasca del Seveso di Senago che dicevamo essere messa a chilometri di distanza dall'agglomerato urbano vero Giovanni? oh ce l'hanno sono riuscito a farlo sorridere meno male quella più vicina era a 20 metri e ottimo e gliel'hanno comprata a un prezzo strabiliante quello si è liberato e gli altri c'è un agglomerato a 100 metri neanche non neanche c'è anche un intero quartiere che è il quartiere della Versagne sul mercato della Gigante che confinano con le vasche e questo è uno dei motivi anche per cui ci si fa sentire nel senso che nessuno dice niente se una vasca come abbiamo sentito altre volte nel vento le vasche messe quasi nel nulla in mezzo al niente e vabbè è un male a cui dobbiamo sottostare qui però veramente il rischio è che venga fatto tutto questo anzi il rischio è palese che venga fatto tutto questo a poche centinaia di metri appunto dalle case con tutto quello che ne concerne quell'acqua lì ricordiamolo è un'acqua che è terribile basta guardare i rilievi ARPA e poi senza fare nessuna fatica perché ormai su internet sul dottor google ci possiamo mandare tutti quanti vedere quel rilevato di ARPA cosa può procurare tutti quanti lo possono fare e dopo di che si rendono conto di quello che c'è il problema è un altro è che perlomeno quelli che conosco io di Senago i cittadini Dante li avrebbe collocati nel limbo dagli gnavi cioè agli apulici a quella roba non si riescono a svegliare le coscienze della città come mai secondo lei questa cosa un po' perché sono facogitati dalla classe politica che appoggia queste vasche e un po' perché vengono da una cultura contadina che è stata proiettata negli anni sessanta nella cultura industriale perché sono state realizzate le aree industriali che ha creato una serie di scompensi e quindi gli obiettivi le situazioni sono un po' appannate ecco però quando verranno rilevati gli effetti che sono purtroppo a medio e lungo termine poi non potranno dire ve l'avevamo detto ecco noi speriamo che questi effetti siano mitigati il più possibile non è però così semplice nel senso che davvero cosa si può fare a questo punto e a questo punto l'unica cosa è prima che entrino in funzione le vasche di Senago dove non possono essere lavate che le acque vengono disinguinate ok del resto un progetto fatto dal Politecnico di Milano stiamo parlando non da Giovanni ok il Politecnico di Milano prevedeva per il Seveso una serie di disinquinamenti per portare l'abbattimento degli inquinanti dai valori rilevati a valori accettabili questo progetto da Regione Lombardia che ha perché l'ingegner Campanelli lo ha ammesso in una riunione che ha non l'hanno neanche preso in considerazione ok sicuramente pensavo anche di costi o cose del genere immagino cioè costava un po' più delle 36 milioni ci sono aspetti singolari va bene non diciamo non le faccio domande scomode Giovanni perché ci tengo alla sua salute quindi non voglio che sia mali o che debba venderla a casa poi nel caso di ritorsioni o di dover spiegare le cose in maniera diversa comunque sta di fatto che il comitato adesso che cosa chiede e come si muove questo comitato appunto Novasche tutela del territorio di Senato noi abbiamo chiesto ben due volte in seduta di commissione a Bruxelles che vengano disinquinate le acque prima del loro ingresso nelle vasche di decantazione quindi non state dicendo niente chiudete le vasche sopra una bella colata di terra no va bene ce le facciamo ma esatto però fate che tra l'oltre è obbligatorio anche perché all'1-1-2027 se le acque del Seveso non saranno portate a livello accettabile scatta la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea 74 milioni all'anno una delle tante che paghiamo ogni anno ma per il Seveso 74 milioni per un torrente non sono male appunto quindi noi chiediamo questo cosa faremo perché non ci arrendiamo ovviamente anzi prima una domanda cosa avete fatto perché so che avete già fatto alcune azioni avete fatto alcun esposto alla Corte dei Conti giusto? noi abbiamo fatto il 15 gennaio 2020 abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica in quella sede è un esposto che diceva praticamente qui ci sono degli elementi portati da cartacei e da documenti controllate se le cose che diciamo sono vere e rivestono anche carattere da perseguire ancora non abbiamo avuto risposta abbiamo chiesto ben due volte tramite l'avvocato che ci segue di avere notizie e ci è stato risposto tutte e due le volte che stanno facendo gli accertamenti con l'indagine quindi vi hanno detto che l'hanno ricevuta almeno quella sì sì no 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 anche perché l'avvocato ha precisato in chiusura dell'esposto che di avere l'informazione qualora volessero chiuderla anche per fare obiezione sì 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 chiaro che è in itere questa richiesta vedremo appunto che cosa dirà la corte la corte dei conti ancora un po' di musica ci fermiamo un attimino e poi torniamo per capire invece appunto i prossimi passi del comitato Novasche e tutela del territorio di Senago non per lì però di aver ascoltato i Moneskin con Supermodel 8 e 44 minuti questo è un Moneskin siamo ancora qui con Giovanni Cortese a parlare della vasca di Senago Giovanni tu fai parte appunto del comitato Novasche e tutela del territorio di Senago ma anche dell'associazione culturale Rinnoviamo Senago e del comitato Senago Sostenibile questo va a capire insomma comunque non è che siete da soli il comitato è ben composto no? No ci muoviamo in sintonia perché tra l'altro siamo gli unici che stanno portando avanti questo discorso anche se ci manca l'appoggio della cittadinanza perché come dicevo anche prima sono un po' abulici e un po' facogitati dall'appartenenza politica Regione Lombardia Comune di Senago insomma che sono le stesse coalizioni Infatti perché l'amministrazione cosa dice di tutto questo? L'amministrazione comunale di Senago Purtroppo non siamo in sintonia ma l'amministrazione di Senago si è appaiata completamente sulle posizioni di Aipo che è il braccio armato di Regione Lombardia La miseria perché Aipo è l'agenzia Po che quindi opera nelle quattro regioni che sono attraversate dal Po quindi sono una potenza l'agenzia interregionale per il fiume che gestisce le acque poi in queste quattro regioni come diceva gestisce i lavori gli interventi l'eventuale progettazione utilizzando i professionisti eccetera quindi i prossimi passi quali saranno allora a questo punto noi siamo sul chi vive ecco nel senso che stiamo controllando periodicamente l'andamento dei lavori che sono vergognosamente in ritardo ok dopodiché il passo è quello di pressare le istituzioni a tutti i livelli per le problematiche delle acque e della sicurezza dei cittadini ma anche della falda freatica che alimenta i pozzi di senago e di bollate chiaro perché il gradiente della falda va verso bollate quindi cioè detto il piano è inclinato verso bollate la terra la pianura è inclinata verso bollate per dirlo in maniera più semplice esatto noi amministrazioni comunali che comunque a questo punto cercheremo di sentire chiederemo appunto anche a loro cosa ne pensano di questa situazione così che magari appunto si possa avere anche giustamente la loro campana qui a Good Morning Milano se vogliamo sapere di più sul comitato Giovanni come possiamo fare? ma vi lascio la mail mia in maniera tale che io possa sentire anche gli altri due diciamo istituzioni locali per eventuali azioni ed operazioni insomma chiaro chiaro poi li metteremo anche nei commenti alle dirette nell'articolo che trovate sul sito goodmorning.milano.it appunto tutti i contatti per contattare scusate il gioco di parole Giovanni Cortese il comitato Novaschia tutela del territorio e comunque anche poi le altre associazioni che sono appunto impiegate interessate da questa da questa situazione Giovanni grazie allora di essere con noi so che c'è anche tanta documentazione che comunque voi avete che potete dare a chi ne ha bisogno o chi vuole sapere di più giusto? Noi intanto ringraziamo voi perché sono riusciti a mettere il velo su quelle che erano le possibilità di comunicazione ai cittadini tramite i giornali locali per il resto noi siamo disponibili a dare tutte le informazioni il pacchetto di documentazione è costituito da tre faldoni Ah però cominciano ad essere un bel po' di carta dal 2014 siamo in in battaglia e allora davvero Giovanni grazie mille per essere con noi porto i saluti a Senago e a tutto il comitato e ripeto comunque adesso poi cercheremo di contattare anche l'amministrazione comunale per sapere anche da loro cosa ne pensano così abbiamo tutto il quadro completo vi ricordo che sul Seveso se volete sul sito di Milano All News nella sezione storie potete trovare un lungo articolo molto ben fatto dalla redazione di Milano All News che vi spiega un po' la storia che c'è dietro la questione Seveso e ci sono dentro anche poi le interviste interessanti all'assessore Granelli proprio sul discorso Vasque e quindi datevi un'occhiata così che mi hai fatto anche voi un'idea e c'è anche una bella mappa interattiva sulla presenza dei fiumi che attraversano la città di Milano perché appunto non è solo il Seveso ma sono anche tanti altri il più famoso Lambro poi Cello Lona e poi i vari fiumi tra cui Martesana Navidi scusate tra cui Martesana appunto che dovrebbero attraversare la città ma poi vengono tombinati e sappiamo anche il problema grosso della tombinatura di questi corsi d'acqua e tutto quello che ne concerne e poi la cementificazione ricordiamo di una delle aree più cementificate d'Europa e questo che è il Nord Milano e quindi poi non stupiamoci per quello che succede Giovanni grazie mille ancora grazie a voi e buon lavoro buon lavoro a Giovanni Cortese buona continuazione anche a chi ci sta ascoltando perché adesso andiamo con i Bee Gees con You Should Be Dancing e poi torniamo qui per i saluti finali grazie a tutti